E te praticamente metti la Reflex qui e siamo a posto. Non siamo a posto, Giammo. Perché la Reflex lì, con te lì davanti, mette a foto te. Noi siamo totalmente fuori fuori. Ma smettila, sta fissa lì, i problemi di fuoco non c'è nessuno. Vabbè, 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 non ci sono. No, no, ok, facciamo che non ci sono problemi di fuoco. Vabbè. Quindi te vuoi partire con questa incredibile web serie, innovativa web serie, con noi al tavolino. Cioè noi tre al tavolino, che sia, che era così, la fa parte, boom. Vabbè, no, no, bisogna... Ma sì, po' così, mettici qualche cos'altro. Avrà pensato a qualcos'altro. Sì, ci si può mettere la sigla. La sigla, si parte con la sigla. Ok, e la sigla, chi la fa, chi ce la fa, come la facciamo, se la facciamo. La sigla si fa a noi, ma come si fa a noi, come si fa a noi, non abbiamo le basi, come la fai? Si fa tipo, tipo noi, tipo noi, ascolta, che ci si lancia la roba. Patatine, maionese, ketchup, ci lancia tutto addosso. Certo, certo. Però, tutto al contrario. We are the Chronopogy. 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 Ok, vabbè, facciamoli. Questa la segna, allora. Si, segna la sta cosa, ok. Scusa se io ti tiro fuori questi dubbi, ma, per esempio, telecamera fissi, su questa roba qua, ci siamo noi, succedono cose, guarda caso sempre davanti alla telecamera. Camera fai. Ma la caffè non sa recitare nessuno, se ne salvano un paio, se ne salvano la camera caffè. Poi se proprio devi fare il puntiglio, se io lo chiede al caffè, lei vuole. Sì, attenti, finito. No, a gancho, però, dai, allora, no, macchinista. Ok, scusa, mi è venuta un'altra cosa. A cosa potrebbe somigliare questa cosa qui? Uno, due, tre. Una casa. Succedono cose molto simpatiche a questi tre coinquilini. E in bianco e nero... Dei pilze. Dei pilze, cioè, subito ci... Questi sono i de pilze dei poveri. Ma va bene, ma il bianco e nero si può levare. Sta a posto. Si va a togliere. Si leva il bianco e nero. Quindi se si leva il bianco e nero e si leva la macchinetta... Quello è il marchio di fabbrica loro, dai, non c'hanno altro, non dicono niente altro. Ok, va bene. C'è un problema. Un altro. Sì, un problema grosso, che in questo posto fa schifo. È sempre un casino, è sporco, è leccio, c'è la merda. Ragazzi, ho la soluzione ad ogni problema. Noi questa serie qui la facciamo all'aperto. Eh, oddio. Forse non è proprio una grande idea, eh. Vabbè, e quindi niente. E' esterno e si fa qui dentro. No. E... Lo sai che cos'è che non è bellino? Questa cosa, noi tre. Noi tre non siamo bellini. No, Giano. Fidati, non sei bellino. Nemmeno te, eh. Nemmeno te, no. E nemmeno io, ok? Non siamo bellini, quindi non le facciamo le visualizzazioni. Non siamo matti, i bise, siamo i the show che so anche... No! Non so come si faranno noi biglikes. Come? Noi siamo donne. Bimbi, da donne, guarda là, siamo anche firmi così. No, no, no. E' geniale, dai, facciami senti Giacomo. Sono biglikes. Sì, saremo fia quanto ci pare, però non si può fare il ciclo. Cioè, si fa la ripresa, ma c'è il ciclo, ti fanno anche mai estremate. Quindi, il ciclo, si fa la metà della vita. Poi c'è un altro problema, il trucco, te cosa fai? Ogni ripresa, ti sta a ridare il rispetto e il rimelo. Cioè, io la soluzione, il trucco sul trucco, ti dà la lacca. Ma cosa dici, Giacomo? Aspetta, poi c'è un altro problema, il profilo. Te cosa fai? Quando fa la ripresa, ti metti il profilo che ti risalta. Io mi devo metti il profilo qua, posso fare tutte le riprese così? No, sì, che poi. No, sì, che poi. Bimbi, idea è geniale, donne più egiziani. Ma cosa dici? Io me ne tiro fuori se hai fatto una cosa. No, non che dai, Fede. Sei scemo? Ma che vai? Oh, ora cos'è questa cosa che parlate di voi? Quando non mi avete invitato l'altra settimana? Siamo amici, non mi chiamate quando... Allora a proposito, mi viene in mente un episodio. Quando mi vesti i jeans che mi fanno, ti stanno bene, ti stanno bene. Mi facevano un culo così. Sì, che poi ho capito, dite, dite fra di voi, ma quella volta che mi siete buttati in due, in due, su quella che mi garbava a me. Ma qua, in gomma, in gomma, in gomma, che me ne garba a me. Ma ci stanno, ma che... Come voleva si dimostrare, questa è un'idea di merda. L'idea donne va accantone. Vabbè, ascolta, però, in soldoni la storia, come si svolgerebbe? Troppo, l'avrai pensata. L'ho pensata, la storia è questa. Noi tre, una telecamera, universitari, storie da universitari, anche se non sono proprio da universitari, non importa, che poi diventano sempre più grandi e poi sfociano nel ridimolo, per esempio. E questa cosa fa ridere. E questa cosa fa ridere? Fa ridere, soprattutto, lo sai, lo sai, è originale. Ci vuole qualcosa che caratterizzi ogni puntata. Non mi fai a quella faccia, ti prego. Fede, io c'ho già l'idea geniale. Allora, l'idea è questa. A un certo punto arriva Francia, che noi dal niente ci passa dietro e fa un'azione, non so, mangia qualcosa, non importa, però non dice niente. E poi prende e se ne va. Boia. Però è bello, me la so immaginata. Per favore, grazie. È molto bello, questa funziona. E così, è fatta. E questa è accanto alla cosa originale, fatta. Dimmi, ti prego, come organizzeresti le varie puntate? Semplicissimo, veramente molto semplice. Allora, il martedì si faccio la puntata perché il lunedì c'è trovo di spade. E poi, sentite Instagram, il giovedì si mettono i bloopers. Perché poi tutti muoiono dalle risate, i nostri errori. No, 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 con bloopers mi pietro. Lo sapevo, l'altra volta, grazie. Ti prego, stai un grande. Stiamo dicendo una cazzata dietro l'altra. Comunque, ormai voglio continuare con questa cazzata. Hai già un'altra idea di merda per il titolo? Ma questa è la cosa più semplice. Ascolta bene e reggetevi forte. Tre ragazzi e un tavolino. Spiega tutto. Cioè, te lo senti e dici, ecco dove vanno a parlare allora. Tre ragazzi e un tavolino. Meno preparato. Meno preparato. Ascolta, ascolta bene. Il tavolino delle meraviglie. Chapeau. Chapeau? Da dove ti vengono? Perché sei di Narnia? Sei di Narnia? Il tavolino delle meraviglie. Oh, ecco, sta arrivando il fauno, presto. Ma che cosa stai dicendo? Il tavolino delle meraviglie. Lui. Ma ultima possibilità. CFU. Che praticamente sarebbe l'arronimo di... Come farò un si sa. Con l'ashtat? Vabbè, carino. Guarda, lo sai, ci può stare. Ci può stare. Bibi, no, si chiude. È un'idea di merda dietro l'altra, col titolo veramente si è toccato il fondo. No, no, Bibi, io abbiamo... Ma ci metti la hashtag, ragazzo. Io diamo lo station man. Sì, no, è più che no, però non la cosa monta così. Eh, Fabiano, sì, ciao. Ciao, sì, no, è per quella cosa della web serie. Sì, no, non si fa. No, se è deciso non si fa. Sì. Salute. Sì, no, è per me. Sì, no, no, io sistemo le luci. Sì, ok, faccio le lampadine. Oh, il mirofolo lo metto io. Sì, lì ci sta bene. Ma sei se... Vai, vai, vai. No, non si fa. Ok, però c'era un eco tempo e star lì ad inuginare le cose di 10 giorni fa. Ma non è una mare di cose da raccontare Eh, ma è un tipo cosa Ma non lo farò mai Ma non lo farò mai Ma non lo farò mai Ma stai in scena Ma non lo farò mai Ma non lo farò mai